Il Dental Go dà sempre una realtà per il territorio che si è trasformata in un evento nazionale. Da subito Ivo Clarviva Dent ha sostenuto e per questo noi sentiamo Paolo Ricciarelli. Grazie. Ivo Clarviva Dent da subito, come diceva la gentilissima Paola, ha sostenuto il Dental Go credendo alla realtà territoriale, a quello che il territorio, soprattutto il sud, necessita. Siamo stati presenti dalla prima edizione del Dental Go e da anni perseguiamo questo obiettivo, l'obiettivo del territorio e della cultura che il Dental Go sta dando al ramo clinico e ramo tecnico del nostro settore. Per quanto riguarda la nostra partecipazione quest'anno è una partecipazione che tecnicamente si avvale di nuove sistematiche, che sono le sistematiche Viva Pen per quanto riguarda il ramo clinical e le sistematiche da pressatura per quanto riguarda il settore tecnico con dei nuovi forni press e tecnologia press. Anche in questa edizione 2008 del Dental Go rivedo quelle che sono le parole chiave del nostro marchio, passion, vision e innovation. La sintesi è la forza delle grandi aziende. Grazie. Grazie a voi.